Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi parliamo di Switch, vediamo il comportamento all'interno di una rete LAN e vediamo anche quali sono i campi di lettura della trama Ethernet che lo Switch riesce ad interpretare. Come vi ho già accennato, lo Switch lavora a livello 2 della pila ISO-OSI e interpreta questi dati qua. Io ho una piccola diapositiva di una trama Ethernet di quelli che sono i vari campi e lei, lo Switch, riesce ad interpretare questi due campi, ovvero l'indirizzo MAC destinazione dell'informazione e l'indirizzo MAC origine dell'informazione. Così facendo, lo Switch, quando riceve un'informazione, un esempio, dal PC1, smisterà l'informazione non a tutti i PC come faceva l'Hub, ovvero la smisterà solamente al PC3 se è destinataria dell'informazione. Vediamo qui, faccio un reset e vediamo di fare un ping da questa stazione, dal computer PC1 al PC3. Vediamo come si comporta lo Switch. Vedete, riceve l'informazione, l'informazione viene smistata al PC3 perché è destinataria dell'informazione, perché lui, lo Switch, ha la capacità di leggere l'informazione. In effetti, se ci posizioniamo qui, lui ha già creato la sua tabella di inoltre, ovvero sulla porta 1, ha in collegamento il MAC address 5 e 1, che sarebbe sicuramente una di queste stazioni qui. Così, così facendo, ovviamente il traffico di rete non subisce più congestioni come avveniva con l'Hub, lo Switch è un apparato di rete che lavora, diciamo, in full duplex. Il dominio di collisione si riduce all'app link, cioè ovvero al link che collega lo Switch al computer, all'end system. Però se lavoriamo su quattro coppie, quindi in una rete Ethernet 100T e no TX, 100T, la velocità arriva su quattro coppie, quindi due coppie trasmettono, due coppie ricevono, quindi non si ha il dominio, non si ha collisione. Lo Switch ha la capacità di, diciamo, di costruire questa tabella di inoltre, che viene resettata ogni 5 minuti, oppure resettata quando lo Switch viene spento. Ricordate che lo Switch si comporta come l'Hub solamente in un preciso momento, ovvero all'accensione, quando lui nella tabella di inoltre non conosce nulla della sua rete. Nel momento in cui una stazione, un esempio, faccio un ping di qua a qui, dalla stazione 1 alla stazione 3, e lo Switch era spento, lui non conoscendo, non sapendo su che porta c'è la stazione destinataria dell'informazione, allora lui cosa fa? L'ha smessa su tutte le porte. Non può perdere l'informazione, quindi questo è il processo di back forward learning. Imparo dopo, nel senso, prima svolgo il lavoro e dopo imparo. In effetti, sicuramente, quando lui inoltrerà il pacchetto a tutte le stazioni, ci sarà una stazione che risponderà al ping, e quindi lui avrà poi, successivamente, contezza che su quella determinata porta esiste quella determinata stazione. Quindi, lo Switch è un apparato intelligente rispetto all'Hub. Andiamo avanti, vedete, la stazione risponde, lo Switch elabora l'informazione, la manda alla stazione che è destinataria dell'informazione. Io ho il resetto qui, resetto, e vi faccio vedere la differenza tra lo Switch e l'Hub. Vedete l'Hub, passiamo in simulazione, delete, reset, mandiamo un ping da questa stazione, dalla stazione 0 alla stazione 2. Facciamo partire il pacchetto, il pacchetto viene preso in gestione dall'Hub, l'Hub cosa fa? Per sua natura, non riuscendo a leggere il livello 2 della trama, cosa fa? Lo smista su tutte le sue porte. Questa stazione scarterà il pacchetto, perché è non destinataria, vedete, è uscita una X. Quindi l'Hub riceve il pacchetto dal PC2, perché deve rispondere al PC2 al ping. Lui cosa fa per sua natura? Lo ritrasmette di nuovo su tutte le porte. Questa stazione scarterà il pacchetto, vedete, c'è la X rossa, invece questa, avendo risposta dal PC2, completerà il processo di ping. Bene ragazzi, questo è quanto. Io ho fatto vedere la differenza tra un Hub e uno Switch. Sicuramente lo Switch porta delle migliorie all'interno della nostra rete LAN. Ci sono Switch che riescono a lavorare a livello 3, quindi a livello rete, ma non sono dei router. Sono chiamati Cisco, sicuramente hanno Switch, Layer 3, riescono a leggere il livello 3, ma non sono dei router. Bene, questo è quanto ragazzi. Io vi invito a mettere un bel like e ad iscrivervi al mio canale. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.